Se non estendi il capo... Puoi così sospiare? Perché almeno i lavaringi In effetti come l'altezza dove ci sono i capezzoli Sì, un trapiglia Qua si Tira, tira, tira Più ti viene Se hai un trauma con un attimino di riguardo Tira pure le due dita sotto Tappa il naso e soffio forte Vedi che si espande Cioè mentre soffi magari se riesci con un occhio a guardare l'espansione toracica Perfetto, due e riprendi E quindi questa via è chiusa Se tu apri solo la bocca La via rimane chiusa Dalla lingua Se prendi ed estendi Vedi come si apre? Si apre, poi puoi aprire la bocca E comunque passarla Poi non c'è Poi non c'è Poi non c'è